Ciao a tutti, di questo per soli due giorni e lui penserà così tanto a te che ti chiamerà. In questo video voglio spiegarti cosa devi dire per soli due giorni in modo tale da far sì che lui ti penserà così tanto che ti chiamerà. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere, potrai scegliere tra quattro live di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema di questo per soli due giorni e lui penserà così tanto a te che ti chiamerà. Allora, che cosa devi fare? Che cosa devi dire per soli due giorni? Allora, i giorni sono due ma la preparazione è importante. Allora, la preparazione è questa. Tu devi acquisire totale fiducia in te stessa. Se non acquisisci una totale fiducia in te stessa, non otterrai assolutamente nessun risultato. Non otterrai assolutamente nessuna possibilità di essere una persona in grado di influenzare gli eventi. Perché io ti posso garantire che se tu acquisisci fiducia in te stessa, diventerai una persona in grado di influenzare gli eventi. Cosa vuol dire essere in grado di influenzare gli eventi? Beh, essere in grado di influenzare gli eventi vuol dire essere in grado di trasformare completamente ogni situazione in qualcos'altro. Questo è veramente, è veramente importante. Potrai avere la forza di ottenere, diciamo, dei risultati che neanche la tua più fervida immaginazione si può immaginare. Si può rendere conto. Questo è fondamentale. Se tu riesci a, diciamo, a sviluppare queste strategie, se tu riesci a sviluppare una forte confidenza in te stessa, una forte fiducia in te stessa, non avrai praticamente più nessuna possibilità di non influenzare gli eventi. Potrai tranquillamente influenzare gli eventi, potrai tranquillamente influenzare tutto quello che è importante per te e attivare la chiamata di questa persona. Questo si basa sulla fede e fiducia. Se tu hai veramente fede in te stessa, fiducia in te stessa, fede e fiducia cosa sono? Sono sapere incondizionatamente che quello che tu pensi sarà un messaggio che manderai all'universo, che non potrà far altro inesorabilmente che avverarsi. Tu hai questa possibilità, ma devi imparare a sfruttarla. Devi imparare a sfruttarla. Noi abbiamo questo potere. Se tu, ovviamente per modificare degli eventi che sono, come dire, nelle linee del nostro destino, no? Dentro ognuno di noi ci sono delle linee di destino. Le linee di destino cosa sono? Sono quegli eventi che sono fattibili, per dire, se io voglio creare un evento nella mia vita o sperimentare un evento che non fa parte della mia linea di destino, la linea di destino non è un qualcosa di tracciato, è un qualcosa di probabilistico. Si basa proprio sul principio della quantistica di indeterminazione. Cioè ci sono delle cose che sono più probabili e degli eventi meno probabili. Noi attraverso la nostra, diciamo, fede e fiducia possiamo far sì che eventi magari che non siano così tanto probabili acquisiscano nelle linee del potenziale destino, acquisiscano più probabilità e quindi si possano manifestare. Noi possiamo, attraverso la nostra intenzione, decidere se l'elettrone si deve comportare da particella, si deve comportare da onda e deve, tra virgolette, colassare la sua funzione d'onda. Abbiamo questa capacità di far avvenire un evento attraverso la nostra intenzione. Quindi però il vero problema non è far avvenire gli eventi, è credere, avere fede e fiducia di poterli far avvenire. Perché se dentro di noi le energie che noi abbiamo non sono totalmente allineate, non sono totalmente, possiamo dire, connesse con quella parte profonda di noi, che è quella parte che determina ciò che sarà possibile, discrimina ciò che sarà possibile da ciò che non sarà possibile, se non abbiamo una fede e fiducia forte, profonda, determinata dentro di noi, non otterremo assolutamente alcun risultato. Purtroppo questo è il limite. Quindi una volta che tu hai sviluppato questa capacità e questa fede e fiducia, basterà che tu dirai per due giorni, due giorni soltanto sono sufficienti e dovrai ripeterlo però in modo rituale. Dovrai ripeterlo in modo rituale che significa che cosa? Significa che in modo solenne. È un po' come quando uno va a chiedere la grazia alla Madonna di Lourdes o alla Madonna di Međugorje. È la stessa cosa, soltanto che questo è per un evento molto più limitato, perché fai solo chiamare una persona, non devi fare chissà che cosa. Non serve l'Egregora della Madonna di Lourdes o della Madonna di Fatima o di quella di Međugorje per far venire un evento più sostanziale, ma semplicemente un piccolo evento, ma va fatto con solennità. Quando tu vai a Lourdes a chiedere la grazia, non è che vai lì e dici Ehi, senti, ho fretta, guarda, è già tardi, fammi stare grazie in fretta che mi devo andare. Non devi assolutamente, diciamo, comportarti in questo modo. Devi mettere in atto le giuste strategie per attuare quello che tu vuoi. Questa è una tua possibilità, ma devi sfruttarla pieno. Devi far sì che questa cosa avvenga e devi sentirla dentro di te. È l'unica possibilità che tu hai. Quindi noi possiamo influire sull'evento. Quindi in modo rituale, magari, diciamo, solenne, in fase di addormentamento, in fase di risveglio, basta che ti fermi e dici Devi dirlo con solennità, con forza, io voglio, io posso, io comando, che tizio, metti il nome, mi chiami. E vedrai che ti chiamerà molto prima di quanto ti posso immaginare. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate. Abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo. Abbonamento Massa Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti. Ciao a tutti.